allora buonasera a tutti benvenuti al nostro 43esimo webinar e questa sera parleremo della privacy e dei device che vengono utilizzati all'interno della pulizia a fare questo ci aiuterà il nostro segretario generale massimiliano mancini che è già il cultore della materia e anche presso la sapienza dell'università di roma passo subito la linea a lui così andiamo acceleriamo e che siamo già ritardo buon proseguimento a tutti grazie grazie enrico poi eventualmente magari se tieni anche conto della chat e di quello che arriverà e anche di quello che arriva sulla chat dei soci e fammi domande in qualsiasi momento poi appena sarà collegato anche il vicepresidente vicario giuseppe itz diciamo e diamo la parola per il saluto upli allora ci sarebbe c'è tantissimo da dire sulla privacy e ancora di più per quello che riguarda la privacy nell'ambito della pubblica amministrazione dove abbiamo un tasso elevatissimo di gravissime regolarità se non addirittura di illegalità e questo lo stiamo scoprendo nonostante ci sia diciamo così una generale usiamo la parola comprensione da parte insomma degli organi che forse limitano al massimo i controlli ma certo non ci si può esimere nel momento in cui c'è un esposto da parte dei cittadini un reclamo una segnalazione situazioni che sono sempre più frequenti perché si è capito che oggi il modo migliore per non pagare una sanzione è fare un reclamo al garante e nel cento per cento dei casi si deve dire si riesce ad andare a buon fine perché c'è veramente una grande leggerezza ci si affida troppo spesso solo a fornitori che volutamente omettono di avvisare che non basta fare acquistare i prodotti perché non c'è nessun prodotto che di per sé sia regolare se non valutato nel contesto specifico quindi attraverso un percorso che tenga conto della valutazione di proporzionalità che andrebbe fatta prima di comprare l'apparato attraverso un percorso di verifica ossia la valutazione di impatto e dando per scontato che ci siano tutti i presupposti dell'ente a cominciare dalla nomina del dpo che nonostante obbligatoria fin dal 2016 è tollerata ossia non si sono applicate le sanzioni amministrative sino al 2018 è una figura che è sempre e comunque obbligatoria in tutti gli enti pubblici senza nessuna deroga e senza soluzione di continuità cioè non ci possono essere neanche buchi sanzione applicabile in questi casi sino a 20 milioni di euro non piccole somme così come è sempre e comunque obbligatoria la valutazione di impatto e quindi ci si deve conformare alle prescrizioni e quindi si possono attivare quei sistemi solo laddove non sia stato elevato un rischio elevato ovvero non sia stata rimessa la richiesta al garante per la privacy per la quello che è il cosiddetto prior checking cioè la valutazione preventiva allora parliamo subito di alcuni miti affrontiamoli da un altro lato eh c'è tanta gente che crede che per essere regola basta fare il regolamento sulla videosorveglianza io ci sorrido ci sorrido perché sopravvivono ancora una serie di grandi convinzioni e di falsi miti allora eh partiamo da un assunto chi comanda sulla privacy bene eh gerarchia delle fonti la gerarchia delle fonti nel campo della privacy come in tutti gli altri campi è da quello che ci hanno sempre insegnato costituzione leggi oggi sono equiparate tutte le leggi quindi legge eh dello stato legge delle regioni legge delle province autonome di frento e bolzano quindi regolamenti ossia il fondamento giuridico del regolamento è la legge perché è vero che abbiamo tutta una serie di normative che vanno a disciplinare il danno valore giuridico ai regolamenti ma c'è un problema il regolamento ha un senso laddove ci sia una legge che lo preveda la legge ha un senso laddove è disciplinata diciamo così dal una legge costituzionale a cominciare dalla costituzione stessa che è la prima la stessa costituzione all'articolo 11 ci dice però una disposizione specifica che va a regolamentare tutti gli atti del diritto internazionale cioè ci dice che lo stato acconsente alle limitazioni di sovranità che si vanno attraverso trattati internazionali limitazioni sovranità che cosa significa significa che laddove c'è un trattato internazionale lo stato non ha né potere giudiziario né potere legislativo né potere esecutivo e quindi amministrativo uno di questi casi è il trattato di lisbona nel 2007 il trattato di lisbona ha introdotto dopo il fallimento del della costituzione europea i regolamenti europei che detti così i regolamenti europei ci sembrano come siamo abituati a considerare i regolamenti una disciplina tecnica ovvero comunque una disciplina normativa di secondo grado e invece no nel momento in cui il regolamento è emesso in limitazione di sovranità significa che il regolamento è al di sopra di qualsiasi legge dello stato anche della stessa costituzione quindi se lo stato non ha il potere di disciplinare con legge tutto ciò che attiene alla privacy o perlomeno tutto ciò che è ricompreso nel gdpr pensate che possa farlo un comune con un proprio atto amministrativo beh appunto prima sorridevo quindi non c'è nessun potere che all'ente locale provincia regione che possa essere di normare e non e men che meno appunto il comune di normare la video sorveglianza oppure tutto ciò che riguarda la privacy con proprio regolamento quei regolamenti sono nulli tantum non asset sono pienamente da derogare da parte di qualsiasi organo della magistratura ma soprattutto non escludono né la responsabilità sanzionatoria che è piena anzi è un'autodenuncia laddove si vada a disciplinare la videosorveglianza i devices senza aver fatto tutto ciò che il regolamento europeo ci impone quindi è un'autodenuncia con lo stesso regolamento altro che una salvaguardia inoltre il regolamento può disciplinare tutto ciò che non sia già disciplinato dal regolamento europeo quindi può disciplinare come si deve svolgere la privacy assolutamente no e tantomeno ci si metta lì a scopiazzare il regolamento europeo sulla privacy che è veramente stucchevole può disciplinare la legittimità delle telecamere assolutamente no può disciplinare l'uso delle bodycam assolutamente no può disciplinare l'uso ad esempio dei sistemi di radiolocalizzazione oppure l'uso di qualsiasi sistema che utilizzi la videosorveglianza compresa ad esempio anche le telecamere sulle ztl compresi anche ad esempio i sistemi di ripresa installati sulle macchine oppure compresi anche i sistemi di ripresa mobili come vari sistemi per riprendere le violazioni amministrative le violazioni al codice della strada assolutamente no e in nessun caso e allora che cosa può fare il regolamento sulla sulla videosorveglianza io direi niente infatti si farebbe bene a non farli perché di per sé hanno una sola varenza autodenuncia possono però tuttavia disciplinare tutto ciò che non è previsto dalle norme ossia che cosa ad esempio i casi e le modalità in cui si può accedere ai dati della videosorveglianza legale ai dati dei devices legali ecco sì questo può farlo ci si può dire in che modo con quale modo ossia cose molto residuali cose molto marginali non certo tutto il resto quindi qual è il fondamento per poter utilizzare qualsiasi sistema che vada a trattare i dati a cominciare dalla videosorveglianza beh punto primo secondo il principio del privacy by design prima di acquistare qualsiasi strumento si deve fare la valutazione d'impatto prima di fare la valutazione d'impatto si deve avere il dpo si deve avere quindi le informative si deve avere il registro del trattamento e tutto questo ci deve essere prima ancora che si faccia qualsiasi cosa ci sono poi alcuni che pensano di mettersi in regola anche qua permettetemi di fare un sorriso perché anche questo è una dichiarazione di violazione andando a scopiazzare i cartelloni la cartellonistica beh considerato che tanto voglio dire non cambia la sanzione fanno bene quelli che non mettono proprio i cartelli in prossimità della videosorveglianza degli impianti di ripresa delle fototrappole tanto voglio dire si prendono la stessa sanzione perché chi mette quel cartello o peggio ancora compra quei bei cartelli quei cartelli veramente inutili vecchi quelli che ancora insomma hanno solo il simboletto oppure non hanno le indicazioni obbligatorie anche quelli tanto vale non metterli perché la violazione è piena e comunque di che cosa di quali violazioni parliamo facciamo qualche esempio comune di taranto ha utilizzato le fototrappole senza valutazione di impatto senza cartellonistica 150 mila euro sapete chi paga beh hanno cominciato già e trovate insomma basta vedere in rete corte dei conti sanzione per violazione privacy addirittura per le violazioni commesse undici anni fa quindi quando ancora non c'era il dgpr ma valeva la 196 del 2003 la corte dei conti ha girato la sanzione che all'epoca era veramente minima piccola erano solo 4 mila euro gli ha girati proporzionalmente su tutti i soggetti coinvolti dirigente funzionario impiegato che ha che ha commesso la violazione e ad ognuno di loro ha ripreso con danno erediale quanto è stato pagato anzi gli è andata bene perché è stata prescritta l'azione di responsabilità civile perché l'altro danno che ne consegue è che la sanzione è non solo la condizione che rende illecita e illegittima qualsiasi diciamo così allora partiamo da un presupposto aver violato le norme sulla privacy che cosa ne consegue innanzitutto che l'atto è lecito quindi abbiamo una sanzione amministrativa piuttosto elevata non finisce qui se l'atto di accertamento è lecito è illecito di conseguenza qualsiasi atto conseguente quindi qualsiasi sanzione amministrativa abbia elevato lente basato su quell'accertamento è legittimo autovelox zatl sanzione su rifiuti eh e che più ne ha più ne metta magari anche che so l'accertamento sulla mancata copertura assicurativa l'accertamento sulla mancata revisione oppure il rilevamento dal quale ne è scaturita la sanzione per il sinistro stradale anzi vorrei anche la stessa validità della ricostruzione del sinistro stradale laddove ci si è basati su mezzo illecito è assolutamente illecita quindi tutte le sanzioni non sono più lecite sono nulle perché ne consegue l'annullabilità della violazione amministrativa ma non abbiamo finito qui l'aver violato l'aver trattato illecitamente dei dati di un cittadino comporta un risarcimento civile quindi il cittadino farà giustamente causa all'ente come già è successo basta digitare online le cause di risarcimento e vedrete quanti di questi ne sono successi allora trattare dati va fatto non va fatto no va fatto ma va fatto nel modo corretto ossia rispettando le norme quali sono le norme allora abbiamo già detto quali casi e in quali casi si attua ecco vediamo i confini entro cui si attua la la normativa innanzitutto sono sicuramente esclusi gli accertamenti che abbiano diciamo così finalità per le quali non si applica la normativa sulla privacy sono sicuramente esclusi gli accertamenti di polizia giudiziaria però attenzione ne sono esclusi se fin dall'inizio un accertamento di polizia giudiziaria e se per il principio di limitazione delle finalità quell'accertamento non venga utilizzato poi eventualmente per fare anche altre violazioni ossia io posso fare una ripresa per documentare una costruzione abusiva senza rispettare nessuna normativa sulla privacy ritenendo che quella costruzione abusiva abbia una rilevanza penale però se non ce l'ha butto tutte le riprese e finisce lì non è che nel frattempo le utilizzo per fare un procedimento amministrativo perché per utilizzarli per altri scopi gli strumenti il trattamento dei dati personali come qualsiasi attività amministrativa rientra pienamente nella prezzo oppure vediamo un po posso utilizzare le riprese della videosorveglianza del comune che non è a norma che non ha i cartelli che non ha la valutazione d'impatto che non ha l'informativa specifica posso utilizzarlo per ricostruire un sinistro mortale e per fornirlo come prova assolutamente sì perché il giudice nel momento in cui l'acquisirà come mezzo di prova tipico espressamente previsto nel codice di procedura penale entrato nella sfera della giurisdizione penale quel mezzo sarà lecito perché da quel momento in poi non si applica più la normativa sulla privacy c'è un problema però che ciò non sana tutto quello che c'è prima quindi l'imputato giustamente potrà essere condannato sulla base di quelli mezzi di acquisizione della prova ma allo stesso modo potrà segnalare questi accertamenti al garante che applicherà una sanzione all'ente che l'ha utilizzato con la videosorveglianza in maniera legittima e potrà citare il giudizio per farsi risarcire l'ente questo senza che venga meno la sua responsabilità penale e quindi la sua condanna vediamo ancora posso eh utilizzare dei mezzi per documentare la certezza della sanzione dipende perché un altro dei miti che vedo che gira molto in giro è quello di utilizzare la videosorveglianza comunque questa sia eh cioè portarsi il palmare il mezzo di rilevamento palmare eh per accertare la sanzione così i cittadini non fanno ricorso beh questo è una cosa davvero molto pericolosa innanzitutto perché manca il principio di proporzionalità ossia noi sappiamo i sensi dell'articolo 5 del GDPR che riguardano i principi applicabili al trattamento dei dati come devono essere legittimi allora eh qui manca la legittimità perché manca il fondamento di un atto invasivo perché il pubblico ufficiale non può sostenere di aver bisogno di un mezzo di prova perché il pubblico ufficiale ha la sua parola che basta che fa pubblica fede sino a quella di falso al limite potrebbe dire un cittadino io faccio delle riprese per difendermi contro il pubblico ufficiale e può farle peraltro il pubblico cittadino può riprendere sempre gli operatori di polizia a condizioni che non ostacoli il loro lavoro li può riprendere ecco un altro dei falsi miti che girava tempo addietro che non si possono riprendere le forze di polizia e qual è la legge che lo prevede dove è la norma che dice questo dove c'è questa segretezza nessuna quindi lo può fare a tempo addietro ho visto anche delle altre cose davvero pericolose ossia degli delle facsimili di diffida da fare al cittadino a non utilizzare la ripresa identifica verbale di identificazione un atto così invasivo e quindi abusivo per l'eventuale utilizzo che se ne farebbe che sarebbe più o meno come dire che andiamo ad identificare a diffidare tutti i vari cittadini che troviamo di fronte diffidandolo dal commettere rapine dal commettere furti beh se facessi una cosa del genere probabilmente l'amministrazione sarebbe legittimata a fare qualche accertamento sanitario sulla sanità mentale dei degli operatori di polizia ma in questo caso se utilizziamo illegittimamente dei poteri di polizia identificazione diffida atti del genere commettiamo un illecito ma un illecito penalmente rilevante che consiste nell'abuso ed è piuttosto grave allora quali devices sono soggetti forse però è arrivato il vice presidente vicario giuseppe itzo e potrebbe portare il saluto upli intanto facendo è così enrico si è appena entrato non so se ci sente forse non ci sente giuseppe ci senti allora enrico facciamo una cosa scrivili quando è pronto mi interrompi e diamo la parola a lui allora che cosa fare beh che cosa fare è già tutto scritto ed è scritto non solo nel gdpr all'articolo 35 ma è scritto e ribadito e semplificato e specificato nel linea guida 3 2019 che sono entrati in vigore nel 2020 queste linee guida specificano che cosa specificano meglio ribadiscono che cos'è il video sorveglianza e che cos'è gli adempimenti da svolgere allora partiamo da un presupposto la video sorveglianza si fa con strumenti che abbiano come finalità la ripresa l'acquisizione automatica di dati su ampia scala e in via permanente allora se utilizzo uno strumento accidentale non rientro nella disciplina della video sorveglianza cioè se io accidentalmente uso il mio cellulare per fare delle foto per fare delle riprese il mio cellulare nasce con un altro scopo quindi non è uno strumento che possiamo considerare rientrante nella disciplina della video sorveglianza le telecamere fisse mobili come volete nascono solo con uno scopo che non è quello di telefonare non è quello di mandare anche mail non è quello di interconnettere con messaggistica ed eventualmente anche fare foto e riprese quindi incidentalmente sono strumenti che nascono solo per acquisire automaticamente dei dati su una dei dati massivi su una porzione di territorio che rientra nel loro raggio d'azione quindi trattano i dati quindi rientrano nella disciplina sulla privacy quindi rientrano nella disciplina sulla video sorveglianza bene quali altri ci rientrano beh tutti gli strumenti che svolgono questa stessa funzione ad esempio gli autovelox perché gli autovelox mica riprendono solo la targa solo la macchina e non anche eventuali cittadini che passano al loro raggio d'azione e non anche gli occupanti del veicolo e non anche una porzione di contesto sì ci rientrano anche e ancor di più le bodycam ci rientrano anche e assolutamente gli strumenti per la video sorveglianza ci rientrano anche ma per altri motivi ossia perché utilizzano nuove tecnologie e trattano un quantitativo elevato di dati ci possono rientrare anche gli strumenti di radiolocalizzazione che peraltro vanno a radiolocalizzare a verificare ed acquisire dati di dipendenti tutto questo perché ci rientrano anche le telecamere installate sui veicoli laddove comunque abbiano anche una ripresa di contesto ossia non rilevino solo il dato della velocità del veicolo ma rilevino anche l'immagine prendendo accidentalmente anche tutto ciò che c'è intorno anche eventualmente gli occupanti e passeggeri ci rientrano anche i sistemi OCR che non hanno solo un sistema di lettura delle targhe ma hanno anche la telecamera di contesto ci rientrano anche le barriere ZTL che non rilevano solo le macchine che possono entrare che sono in white list e quelle che sono in black list ma hanno anche una telecamera che rileva sia il veicolo sia il contesto e rileva anche l'impianto per evitare manomissioni quindi capiamo che c'è un grosso quantitativo di devices che rientrano nella disciplina della valutazione d'impatto e di tutto il resto ecco c'è il video c'è il vicepresidente video quindi eh prima di riprendere il discorso e specificarlo e poi rispondere anche alle vostre eventuali domande vorrei passare la parola a lui per il saluto Opli buonasera buonasera a tutti Massimiliano a tutti i nostri soggio scusate l'orario ma stevo in servizio e mi dispiace interrompere Massimiliano di quello che sta dicendo perché noi siamo tutti interessati volevo portare i saluti del dell'Upli della Presidente e e dirvi che noi ehm siamo sempre vicino a tutti voi con questi webinar del quarantattresimo e eh e poi abbiamo regatori come Massimiliano Gaidano e altri che eh danno lustro a questa associazione eh ringrazio tutti quanti voi di essere presenti e e spero che sarete sempre di più vicino a questa nostra associazione giovanissima ma che già abbiamo avuti molti successi grazie grazie a tutti grazie grazie al vicepresidente vicario Giuseppe Izzo che è in servizio come comandante di Pietra Melara lo ringrazio ancora di più perché nonostante questo comunque non ha mancato dal saluto Upli che ci ha portato a tutti noi e beh proseguiamo ehm se ci sono domande potete scriverle in chat potete scrivere sulla chat dei soci potete scriverle qui e eh e risponderemo anche a casi concreti a domande che dovessero venire quindi arriviamo. C'è già una domanda nella parte delle domande risposte non si vediamo. Bene allora vediamo un attimo forse vabbè eh giramela fammela direttamente tu perché non la vedevo. Eccola qui ok. Eccola ci chiede. Sì ok. Ok benissimo. Il cittadino può riprendere la polizia e diffondere le immagini in rete? Allora eh dipende ossia la disciplina sulle ehm una cosa è la ripresa una cosa è la diffusione. La ripresa fatta con un mezzo accidentale come è il proprio cellulare è sicuramente sempre consentita. La diffusione no. Perché la diffusione eh comporta la appunto messa a conoscenza di un gruppo è possibile la comunicazione ma non la diffusione. Ecco entriamo nel merito di questi due termini che vengono definiti dal dalla parte che è sopravvissuta della cento novantasei del duemila tre come è stata anche modificata ed integrata dalla cento uno del duemila dieciotto. Allora che cosa che cosa cambia? Cambia molto. La comunicazione è il trasferimento di dati specifici a soggetti specifici. La diffusione è la comunicazione di dati specifici a soggetti indeterminati. Ed è molto diverso. A chi si può eh comunicare? Beh in realtà si può comunicare a chi ha titolo a eventualmente conoscere quei dati. Quindi anche qui la comunicazione si può fare si può fare nei casi in cui insomma sia in ambito familiare sicuramente mh non c'è problema se io trasferisco un'immagine a mio figlio o a mia moglie eh ma si può ehm ecco sto facendo risposta dal vivo ehm ma eh sicuramente si può trasferire anche all'amministrazione di appartenenza laddove si ritenga che sono stati commesse delle violazioni e eh si può trasferire a tutto ciò a tutti gli organi che non rientrano nella privacy. Ossia se riteniamo che siano stati commessi degli abusi, dei reati, si possono sicuramente trasferire, comunicare all'autorità giudiziaria competente. Tutti gli altri casi il trattamento è lecito. Ma questo non perché sia una forza di polizia perché la diffusione pubblica è illecita di qualsiasi soggetto. A meno che non si rientri nella disciplina delle immagini di cui è la legge del 68. Ossia eh si possono utilizzare immagini che riprendano anche persone fisiche laddove non siano l'oggetto della fotografia e laddove non si oppongano e laddove non siano immagini imbarazzanti. Voglio dire se io faccio una foto a piazza di Spagna, faccio una foto eh in un luogo paesaggisticamente rilevante, non è che ho bisogno di andare da ogni singola persona che accidentalmente è lì dentro e chiede di che mi firmi il consenso, posso pubblicare l'immagine, laddove però sia evidente che l'oggetto di quella immagine sia tutt'altro che non le persone che accidentalmente ci rientrino. Dunque un'altra domanda dal collega del Consiglio Direttivo Carmine Buccero in tema di accesso video da parte di privato in caso di distro stradale senza che ci sia stato intervento della PM. Quali sono gli obblighi della pubblica amministrazione, dell'identrice delle immagini e qualche consiglio operativo? Grazie Carmine, una domanda molto interessante. Allora, gli obblighi, il problema non è il diritto di accesso perché il diritto di accesso a questi dati parte sebbene insomma solo inizialmente come una richiesta di accesso a qualsiasi dato detenuto dalla pubblica amministrazione. Quindi il discorso riguarda quali dati si possono dare perché si è chiaro la 241 del 90 è una comune legge dello Stato italiano, ma è solo una legge. Quindi viene dopo la privacy. Quindi il diritto all'accesso dei dati anche da parte dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto perché il diritto di accesso dei cittadini è disciplinato dalla 241, il diritto di accesso dei consiglieri comunali dalla 267 del 2000, il Tuel, entrambi sono leggi ordinari dello Stato. Quindi vengono dopo il GDPR come abbiamo specificato prima nella gerarchia delle fonti. Ci ritorneremo eventualmente. Arriviamo al problema delle immagini. Beh, innanzitutto la pubblica amministrazione può dare immagini che detenga legittimamente, non immagini che detiene illegittimamente se non illegalmente. Quindi la prima domanda è le immagini sono legittime? Sono legittime se la pubblica amministrazione ha un'informativa a norma, ha un DPO che esercita ordinariamente il controllo su tutto il trattamento dei dati personali e se nel caso degli impianti di videosorveglianza ha svolto la valutazione di impatto. Altrimenti le telecamere devono essere spente, altrimenti qualsiasi sistema di videosorveglianza non deve essere utilizzato, fosse anche il telelaser con la ripresa, fosse anche l'autovelox, fosse anche la bodycam, fosse anche la dashcam sulla macchina, fosse anche qualsiasi altro sistema. È illecito e legittimo. Quindi se le immagini sono illecite figuriamoci quanto ancora più illecito ne diventa la comunicazione o la diffusione. Diffusione comunque non può farlo. A proposito ci sono alcuni criminali perché vanno utilizzati per questo nome e vi invito tutti a segnalarvi al garante, ci sono alcuni criminali che svolgono anche il ruolo di amministratori pubblici che si divertono ad utilizzare la gogna. Ecco io come li trovo adesso, proprio come mio principio personale e morale, prendo e li segnalo subito al garante. Dopodiché ci penserà anche il garante, dopo che gli avrà applicato la sanzione gravissima, dopo che gli avrà fatto fare una bellissima figura barbina perché metterà loro sulla gogna, perché ordinerà la cancellazione e gli applicherà la sanzione e renderà pubblica questa sanzione, ci penserà la Corte dei Conti a fare in modo che non pagheremo noi per quelle loro colpe, ma pagheranno altri soggetti. Comunque loro in via personale saranno citati in giudizio dal soggetto che è stato ripreso. Fosse anche un inquinatore, però i dati vanno trattati rispetto alla legge. Un saluto all'amico Angelo Diperma che ha scritto in chat. Quindi quali consigli operativi? Però forse per capire meglio la razza di questa legge che altrimenti non viene compresa nella sua interezza e viene vista semplicemente come una così, come un adempimento formale oppure un adempimento in più, dobbiamo capirne subito. Proporzionalità, legittimità, rispetto della legalità. Allora faccio un esempio. Far rispettare le norme amministrative è sicuramente un interesse dello Stato, è sicuramente un interesse della collettività, ma questo è più importante della democrazia e dei principi fondamentali? Sicuramente no, perché altrimenti anche i regimi del Nord Corea dicono che vogliono la legittimità, anche in Cina, anzi in Cina ce n'è come tanto di rispetto della legalità, però in cambio il prezzo da pagare è sicuramente intollerabile. Ecco, il principio di promozionalità innanzitutto serve a fare in modo che l'invasione sulla privacy, ossia sui dati personali del cittadino, siano bilanciati da un interesse da uno scopo perlomeno uguale. Quindi non è che si può andare a riprendere, a detenere, a gestire tanti dati anche per tanto tempo. A proposito, io mi auguro che nessuno di voi detenga le immagini dopo che sono state pagate le sanzioni, perché quella sarebbe una situazione gravissima e il cittadino vi chiederebbe molto più i soldi di quello che vi ha pagato per la singola sanzione. Bene, allora, punto primo, proporzionalità. Tutto deve essere conseguente, non è che posso ad esempio portare le bodycam dicendo no ma lo faccio per documentare la sanzione coelevata. Beh, qui non c'è nessuna proporzionalità. Prova ne è che addirittura il reparto mobile dei carabinieri, il reparto celleri della polizia di Stato, gli unici che hanno le bodycam, avrete fatto caso che non le ha nessun'altra nessun'altra pattuglia, nonostante questo, prima di adottarlo, hanno fatto la valutazione di impatto, hanno ritenuto che il rischio fosse elevato e quindi hanno chiesto il prior checking, quindi la valutazione di impatto preventiva, hanno inviato preventivamente la valutazione di impatto al garante, il quale il garante ha ritenuto che il rischio fosse elevato e anche nel caso di reparti specializzati come sono quelli, ha stabilito che posso accenderle solo quando c'è una minaccia concreta e quindi non in via generale come strumento preventivo. Altro aspetto possiamo, ma anche qui c'entra la proporzionalità, oltre che la legalità. Allora la legalità qual è? Innanzitutto un altro dei punti importanti è arriviamo all'articolo 9, trattamento di categorie particolari di dati personali. Allora la pubblica amministrazione non può trattare tutti i dati. Ad esempio la pubblica amministrazione non può trattare dati che rivelino l'origine razziale o etica, le opinioni politiche, le condizioni religiose e filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, quelli intesi a identificare in modo univo con la persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Questo si può fare solo alle condizioni previste nello stesso articolo 9 e queste sono tassative, ossia o se c'è il consenso del cittadino, che ci deve essere prima però, quindi molto difficile che si verifichi, o laddove questo sia necessario per esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento dell'interessato in materia di diritto del lavoro della sicurezza sociale. Quindi laddove questi dati ci servono per tutelare la sicurezza dei lavoratori, ad esempio. Oppure quando questo è necessario per tutelare l'interesse vitale, quindi ad esempio se utilizziamo delle telecamere nei reparti di terapia intensiva e lì possiamo farlo. Oppure quando tutto questo avvenga all'interno della stessa organizzazione religiosa, quindi può tenere i registri dei battezzati la parrocchia dove sono stato battezzato. Oppure quando questo è necessario per esercitare un diritto in una sede giudiziaria, ma non è il caso delle forze di polizia, perché la sede giudiziaria viene dopo, non viene prima. Oppure quando c'è una grave minaccia all'ordine alla sicurezza pubblica, perché in questo caso non si applica proprio la privacy. Bene. Allora che significa? Significa che la valutazione di impatto serve anche a dirci dove possiamo fare cosa. Allora ad esempio anche le fototrappole, premesso che vanno segnalate anche le fototrappole, premettiamo perché se non sono segnalate le fototrappole sono sempre illecite, premettiamo se non c'è valutazione di impatto le fototrappole sono sempre illecite, perché la valutazione di impatto serve proprio a valutare dove possiamo metterle, quale possiamo mettere, ad esempio se avete fototrappole che abbiano una semplice sim, la schedina di memoria dentro, non la sim telefono, la schedina di memoria, registrano il loco e non avete una certificazione di criptazione a 128 bit, bene, fate in modo di distruggerle quegli strumenti perché non potete neanche detenerli, non sono assolutamente a norma e non lo saranno mai, perché non ci sarà nessuno che vi certificherà la proporzionalità, la legalità e l'accettabilità di un sinistro. Bene, allora detto questo, che cosa serve la valutazione di impatto? Poi torno alla domanda di Angelo di Perna e di Giuseppe Stagliano. Dunque, arriviamo subito al dunque, la valutazione di impatto ci va a valutare innanzitutto la legalità, quindi ad esempio, prima di forse il problema della proporzionalità, dobbiamo forse il problema della legalità, quindi ad esempio non potremo mettere autovelox, non potremo utilizzare videosorveglianza, in ogni caso in cui il raggio d'azione vada a riprendere ad esempio l'ingresso di una chiesa, l'ingresso di un locale di culto, oppure che vada a riprendere un locale gay, oppure un'associazione per la promozione dei diritti dei transessuali, oppure anche semplicemente un sexy shop, perché oppure la sede di un sindacato. Ecco, in questi casi non si può fare, a meno che non stiamo accertando, ma non preventivamente, stiamo concretamente accertando un reato, ma in tutti questi altri casi non si può fare. Quindi la valutazione di impatto ci dirà gli strumenti, qualunque si siano, anche la ZTL, anche lo strumento di ripresa, si può mettere in queste aree della città, ma non in queste altre. Si può mettere da questo lato, ma non da quest'altro lato, perché spesso serve semplicemente cambiare la posizione, oppure basta metterci degli schermi, oppure basta limitare il range cambiando semplicemente l'obiettivo. Cioè si può fare tutto, ma ci sono due modi per fare le cose, uno giusto e uno sbagliato. Prima di ritornare a questo argomento che potremmo approfondire, rispondiamo alla prima domanda. Giuseppe Stagliano, come si coniuga l'articolo 13 della 68981 con le riprese effettuate dagli operatori per l'acquisizione di fonte di prova per l'illecito amministrativo? Come ho detto prima, la 689 dell'81 è una legge, quindi viene dopo il GDPR. Quindi l'articolo 13 si coniuga rispettando prima la privacy e poi l'articolo 13. Quindi non c'è nessuna norma, nessuna legge che può andare contro il GDPR, perché sarebbe illecita. Quindi rispettiamo le norme e poi applichiamo l'articolo 13. Il codice penale si deve conformare? Certo, anche il codice penale, ma la normativa, il GDPR, detta, non detta disposizione per quello che riguarda i settori della attività giurisdizionale penale e per quello che riguarda l'ordine della sicurezza pubblica. Però c'è una direttiva in questo caso quindi che detta un obbligo generico degli obiettivi da conseguire e non delle norme che sono immediatamente esecutive, che è la 690 e quindi che impone che anche nei settori esclusi dall'applicazione della privacy, gli stati adottino delle misure per garantire, diciamo così, dei livelli minimi di sicurezza del trattamento dei dati personali. Quindi l'articolo 13 vale dopo la privacy. Tutta la legge 689 dell'81 vale dopo la privacy. Tutta il codice della strada vale dopo la privacy. Se c'è qualche altro dubbio sono qua. Allora, Angelo Diperma, tornando al tema della richiesta alle immagini e le telecamere sono regolarmente installate, se l'accesso avviene in base all'articolo 15 del GDPR, come tale si pone in attizia al diritto di riservatezza, quale dovrebbe prevalere? Innanzitutto, allora, partiamo dall'assunto per chi non lo conoscesse. L'articolo 15 dice quali sono i diritti di accesso dell'interessato. Quindi, le richieste alle immagini sono regolarmente installate. Allora, se è in contrasto con l'articolo 15, gli si rifiuta il diritto di accesso. Se è conforme all'articolo 15, cioè ci viene posto una, diciamo così, la richiesta di motivazione era già previsto dalla legge 240 da tutta la normativa sull'accesso ai dati. Quindi, innanzitutto, ci serve sempre una motivazione. La normativa sulla privacy, la motivazione la rafforza ancora di più l'obbligo di motivazione, perché non bisogna semplicemente assolvere, diciamo così, al presupposto per poter richiedere un accesso ai dati. Ma questo accesso dai dati deve rispettare i principi della privacy. Ad esempio, il principio di minimizzazione dei dati. Ad esempio, il rispetto dell'articolo 9, rispetto alle categorie particolari di dati. Ad esempio, il fatto che il principio stesso di limitazione dei dati fa sì che possono essere resi pubblici i dati, o comunque resi conoscibili dal cittadino, ha ammesso che rispettino quei presupposti che risiedono appunto nella normativa a cominciare dall'articolo 15, quindi è solo conforme a quello, ma non è che è un on-off, cioè o te li do o te li rifiuto. L'accoglimento deve sempre tener conto del principio di minimizzazione dei dati. Quindi diamo il quantitativo di dati per assolvere quella finalità legittima, che abbiamo ritenuto legittima in sensi della normativa privacy. Facciamo qualche esempio concreto? Beh, allora immaginiamo che ad esempio il consigliere comunale chieda di avere accesso ai dati del protocollo. Gli elidiamo? Ma il suo diritto di accesso è riconosciuto dal Tuel, dal testo unico degli enti locali. Sì, è R-IPSA, quindi significa che non deve darci la motivazione, ma questo diritto gli deriva da una legge, non gli deriva dal GDPR, quindi il suo diritto d'accesso non è assoluto, ma deve rispettare il GDPR. Quindi innanzitutto tutti i dati sensibili, cosiddetti dati sensibili, oggi si chiamano più correttamente categorie particolari di dati, secondo me non ha alcun diritto ad averli se non ci specifica il caso concreto conforme alla normativa. Quindi ad esempio io sbianchetterei nella sua richiesta come ho già detto, dando un parere come DPO, perché io poi in questi casi vi consiglio sempre di non prendere direttamente voi delle decisioni, ma avete un DPO, il DPO non è semplicemente così, l'esperto informatico che si inventa oppure l'amico che siccome è un amico gli abbiamo dato questo incarico e quindi tanto non serve molto e si inventa di fare anche questo lavoro. Deve essere una persona che anche preventivamente valuta la regolarità del trattamento e quindi gli chiediamo di esprimersi e di esprimere un parere. Peraltro in questi casi, come sapete, il tempo del diritto di accesso, quindi 30 giorni, vengono sospesi perché comunicate al soggetto che avete richiesto un parere al DPO e che quindi nei 30 giorni che a sua volta è il DPO per fornirevi un risponso, il tempo del diritto di accesso è sospeso. Nei 30 giorni che però potrebbero anche essere prolungati laddove il DPO ci dia una motivazione per cui ha bisogno di fare ulteriori approfondimenti e quindi riprenderete il conteggio del tempo per il diritto di accesso quando avrete ricevuto il parere. Parere che naturalmente nel principio, nell'ottica dell'accountability che è il cuore del sistema di questo, della normativa sulla privacy, la pubblica amministrazione si prenderà la responsabilità di concordare oppure di divergere e quindi di procedere oltre. Così come il DPO in questo caso sarà libero di, laddove ritenga questo U da violazione, non sarà libero, avrà l'obbligo di segnalare questo comportamento al garante della privacy. Spero di essere stato esaustivo, se no richiedetemi ancora oltre. Nel frattempo che non ci siano altre domande proseguo. Quindi la valutazione di impatto è qualcosa di sostanziale. L'informativa sul trattamento dei dati è qualcosa di sostanziale. Infatti sono state sanzionate delle amministrazioni, ad esempio la ASL di Frosinone, tanto per dirvene una, che ha pagato, è stata anche trattata bene, 7500 euro perché ha rimediato subito, perché hanno messo delle informative un po' generiche, perché ci sono ancora quelli che pensano che tanto le informative basta scopiazzarsi su internet, che basta affidarsi a un privacy officer, perché chiariamo eh, il DPO, facciamo subito questa chiarezza, il DPO è un soggetto che viene pagato per controllare, non ha l'obbligo di fornire anche la documentazione, di mettervi a posto i registri, di farvi tutti questi lavori qui. Il DPO ha questa funzione, controllare e sicuramente non può svolgere questa funzione chi è controllato, cioè è sicuramente illegittima e da segnalare al garante laddove questa funzione venga svolta, che so, magari da chi per primo deve essere controllato come dirigenti del comune, a meno che a quel dirigente non gli date nessuna funzione concreta di trattamento dei dati, ma gli si dà soltanto la funzione di volgimento dell'attività di DPO. Ma se si fa questo, bisogna dargli anche un'integrazione stipendiale, perché siccome la sua funzione è gerarchicamente sovraordinata, perché nella sua attività di controllo agisce senza passare attraverso nessun altro organo, quindi svolge le funzioni perlomeno pari al direttore generale. Infatti chi conosce la normativa se ne guarda bene dall'utilizzare una figura interna, ma gli costa molto meno dare un incarico esterno. Il problema è che bisogna prendere però dei DPO competenti. Avete bisogno anche di chi vi mette a posto la documentazione, di chi vi prepari delle informative serie e non scopiazzate? Bene, quello è il privacy officer che vi fa questo lavoro. Certo, in via teorica potrebbero essere anche la stessa persona. Certo, da valutare. Sicuramente non può essere la stessa persona. Chi vi fa la valutazione di impatto è il DPO, perché il DPO ha l'obbligo di dare il proprio parere sulla valutazione di impatto e quindi non può essere chi ha realizzato e chi è controllato. Non può controllarsi da solo, questo è evidente. Quindi sicuramente lì c'è un'incompatibilità totale. Rispetto ad altre funzioni si può chiedere al DPO, con un incarico a parte, di fare anche il privacy officer e quindi di realizzare informative serie, non come spesso succede, scopiazzate. Perché l'informativa ci deve dire concretamente che cosa ci si fa e per quanto tempo e per ogni trattamento. Non per fini di sicurezza, che non significa niente. Non per il tempo necessario ad assolvere il trattamento dei dati. No, mi dovete dire quanti giorni detenete quell'atto. E mi dovete specificare che dopo che ho pagato la sanzione, voi, il tempo massimo tecnico, ventiquattro ore, cancellate il dato, altrimenti fate un trattamento illecito. Ecco, se avete altre domande, se no proseguo. Ecco, altro aspetto, non potete dare delle indicazioni generiche sulla tabella informativa. La tabella informativa, ecco perché anch'essa viene elaborata nell'ambito della valutazione d'impatto, qui non va fatta ad occhio, va fatta a seguito di una valutazione d'impatto, ci si deve dire concretamente a chi chiedere i dati. Perché vedete, se io sono in una zona che avete regolarmente segnalato, perché se non avete segnalata, vi faccio causa a prescindere e vi segnalo a prescindere dal garante, sicuramente pagherete. Ma se sono in una zona che avete regolarmente segnalato prima che entro nel raggio d'azione, perché la tabella non è che potete metterla sotto la telecamera, quindi che io vengo prima ripreso e poi leggo che entro in un'area videosorvegliata. La tabella mi deve avvisare prima di ogni ingresso in un'area videosorvegliata che c'è la videosorveglianza. A condizione che questo non avvenga in alcuni contesti dove invece anche qui non è che la valutazione d'impatto dovrà tener conto prima di alcuni atti preliminari, rispetto ai quali altrimenti non si possono fare. Questo è il caso di tutti i trattamenti di dati che coinvolgano personale dipendente. E questo è il caso, ai sensi dello statuto dei lavoratori, la legge 300 del 70, in tutti i casi in cui le telecamere riprendano zone di passaggio dei lavoratori. Ecco, io mi auguro che non ci sia nessuna telecamera che riprenda, ad esempio, l'orologio marcatempo, perché se c'è questa. So già che è legittima, perché non ci potrebbe essere nessun caso che giustifichi la proporzionalità e ancora posso, ancor meno, credere che ci sia stato un accordo sindacale che lo abbia consentito. Io credo che non ci sia nessun trattamento di dati biometrici, ad esempio il rilevamento dell'impronta digitale, negli orologi marcatempo in qualsiasi altro sistema, a meno che il dato non sia in possesso dell'amministrazione, cioè a meno che non ci sia un badge che contenga l'impronta digitale del dipendente e che si è in mano al dipendente e quindi il lettore badge non si limiti a fare semplicemente un matching, quindi una verifica tra l'impronta che è detenuta nel badge del dipendente e il vito che il dipendente ha messo sopra, perché in nessun caso penso che ci possa essere qualcuno che rilevi la proporzionalità e la legittimità di un trattamento delle categorie particolari di dati di cui è la legge, di cui è l'articolo 9, tale da detenere dati biometrici. Allora capiamo che diventa tutto particolare, ma anche tutto molto semplice se si fa rispettando le regole. La valutazione d'impatto, che deve essere anche aggiornata poi, perlomeno insomma quando ci sono delle variazioni, ma io direi annualmente, serve proprio a dare legalità all'azione amministrativa, legittimità e a tutelare gli operatori della polizia su strada, perché poi alla fine se ne risponde personalmente di fronte della Corte dei Conti dei danni che si sono fatti. Quindi che cosa fa la valutazione d'impatto? Beh, va a fare una valutazione preliminare sul territorio. Ecco, quindi diffidate da quelle che ve le danno in pochi giorni e ve le danno già pronte, perché quelle non servono a niente, quelle sono inutili. Aggiungo un'altra cosa, il rischio non va mica valutato in maniera discrezionale, ci sono le norme uniche che stabiliscono come fare la valutazione del rischio. Allora, come si fa? Si parte innanzitutto dalla valutazione della sicurezza del sistema, dall'idoneità dei mezzi di ripresa, tutti, compreso anche gli eventuali tablet, compreso anche le barriere ZTL, compreso anche gli eventuali autovelox fissi e immobili, compresi anche i sistemi per il rilevamento della copertura sicurezza, eccetera, eccetera. La radiolocalizzazione, gli eventuali bodycam, eccetera, eccetera. Quindi si parte prima dalla valutazione della legalità del prodotto, dalla valutazione della legalità del sistema, quindi della sicurezza, perché sicurezza e legalità sono due facce della stessa medaglia, quindi la stessa cosa. Dopo di questo si parte alla valutazione della proporzionalità, cioè ogni sistema bisogna dire sì, considerato il rischio, considerato il contesto, considerato il bene da proteggere, si valuta proporzionale, perché se non c'è proporzionalità è illegale anche questo. Terzo aspetto, bisogna valutare i dati che vengono trattati, quindi i contesti dove si può eseguire la ripresa e dove no. Quindi, voglio dire, dove posizionare un sistema di controllo delle targhe, di autovelox, di fotored e di tutto quello che volete, ci sono zone dove si può fare e zone dove non si può fare. In alcune zone potrebbero essere temporaneamente inutilizzabili, ad esempio, potete legittimamente riprendere le sedi scolastiche, però dovete avere un sistema affidabile, certo e tracciabile, che garantisca la disattivazione del sistema, ogni qualvolta quella sede scolastica, quell'edificio scolastico, venga utilizzato come seggio elettorale, perché in quel caso non avete nessun diritto, anzi avete il divieto di riprenderlo, perché anche solo rilevare se il soggetto è andato a votare oppure se non è andato a votare, anche questo è un dato che attiene alla sfera delle preferenze politiche. E quindi non si può acquisire, perché è espressamente vietato. C'è proprio l'articolo 9, in quel caso non si fa nessuna valutazione di proporzionalità. In quel caso c'è il divieto e basta. Così come ad esempio non è che possiamo riprendere legittimamente l'ingresso del pronto soccorso, potremo farlo a determinate condizioni. Non è il nostro caso, perché immagino che nessun comune metta una cosa del genere, ma l'ASL potrebbe farla ad una condizione, ossia se in questo caso lo strumento di ripresa, valutando il rischio nella valutazione di impatto, registri dati su un'area non accessibile se non alle forze di polizia a seguito di una CNR o comunque a seguito di un fatto delittuoso che quindi escluda l'applicazione della privacy. Quindi dove non ci sia la possibilità di guardare le immagini, ma vengano prese solo dalle forze di polizia a seguito di una denuncia di un reato. Lo stesso dicasi per la sorveglianza di alcune aree che di per sé potrebbero essere esclusi. Ad esempio potremmo riprendere la sede comunale anche laddove entrano i dipendenti, anche dove i dipendenti si regolano al lavoro, laddove utilizzassimo, garantendo tutte le sicurezze del caso, che questi dati non sono accessibili a nessuno se non alle forze di polizia, anche la stessa polizia locale, perché non è che il fatto di essere colleghi fa venire meno le qualifiche che si rivestono agli operatori di polizia, sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, secondo i casi, secondo gli ordinamenti di amministrazione, secondo quello che prevede l'articolo 57 del CPP. Purtroppo particolarmente arretrato, purtroppo particolarmente vergognoso nel caso della polizia locale che continua a chiamare le guardie dei comuni e delle province, ma questo è un altro discorso. Però sappiamo, insomma, la disciplina della legge 6586, articolo 5, il conferimento delle qualifiche anche di polizia giudiziaria, quindi lo possono fare anche, ma non invia, cioè quell'immagine non può arrivare nella centrale operativa, ancora deve essere una di quelle immagini riservate che vengono, che quando c'è un accesso, attraverso un registro certo, ci dica che c'è stato prima un reato e non un controllo, non una valutazione preventiva. Non ci sono altre domande? Andiamo avanti? Abbiamo ancora poco tempo? Abbiamo ancora pochi minuti? Beh, quindi, in questi ultimi minuti, i consigli pratici. Allora, se non avete una valutazione di impatto, il primo consiglio, spegnete tutto. Il primo consiglio, non utilizzate nessuno strumento che riprenda. Il primo consiglio è, tenete subito tutto dentro e auguratevi che nessuno protesti e che non vengono a fare più un controllo. Punto secondo, se non avete nominato un DPO, dite di corsa alla vostra amministrazione che lo devono fare, altrimenti, soprattutto per chi riveste la qualifica di polizia giudiziaria, avete l'obbligo di segnalare questa sanzione, avete l'obbligo di accertare questa grave violazione e segnalarlo al garante per la privacy. Non avete lesimente dall'omissione di atti d'ufficio se non lo fate e se vi chiederanno perché non l'avete fatto, dicendo che però d'altronde è la vostra amministrazione. Perché in quel caso non si è compressivi, si è collusivi. Punto terzo, verificate come stanno le informative. Se non avete un privacy officer oppure se il vostro DPO non è privacy officer, perlomeno potete chiedervi però di verificare subito la legittimità del registro dei trattamenti delle informative, delle informative. Non ci può essere una sola informativa perché le informative devono essere specifiche e voi avete tanti trattamenti per tanti soggetti. Il trattamento dei soggetti sanzionati da parte delle forze di polizia è completamente diverso dal trattamento dei dati dei soggetti che accedono negli uffici comunali per altre finalità, ad esempio di chi comunica i propri dati per avere il buon menso oppure per avere l'iscrizione dei propri figli al servizio scuola, a bus oppure alle primarie passando per la scuola, scusate, agli asidi nido passando per il comune. Quindi non ci può essere unica informativa. L'informativa da dare ai dipendenti non c'entra niente con l'informativa per i cittadini. L'informativa per le varie categorie di dipendenti, perché non è detto che si trattano i dati di tutti allo stesso modo, beh, dovranno essere specifiche. Questo solo per dirvi alcune. Le informative dei cittadini che andate a video riprendere per varie finalità, bene, gli dovete dire di ogni finalità che gli fate e per quanto tempo lo detenete e dovete garantire che quel tempo sia rispettato. Altro aspetto, dopo che avete fatto tutto questo, affidate a soggetti competenti la valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto fatela passare per il DPO che darà il suo parere obbligatorio e se il rischio non è elevato la giunta può approvarlo. Nel momento in cui lo ha approvato e non decida facoltativamente di chiedere una valutazione preventiva al garante, da quel momento attuate le prescrizioni che ci sono nella valutazione d'impatto e avete il 99 del lavoro già pronto. Se proprio volete fare un regolamento del trattamento dei dati, direi io, piuttosto che un regolamento sulla visosorveglianza, atto che secondo me c'è bisogno neanche di portarlo in consiglio perché lo fa, è un atto che attiene al titolare del trattamento dei dati, ossia al comune e la volontà in questo caso la può esprimere la giunta, comunque, a prescindere se ritenete che essendo un regolamento rientri nella 267 e non nella disciplina degli atti del titolare del trattamento dei dati prevista dal GDPR che è superiore al TUEL e quindi volete farlo approvare dal consiglio comunale, fatelo, in questo caso il regolamento non della videosorveglianza ma il regolamento del trattamento dei dati o meglio dell'accesso ai dati trattati dal comune dall'ente in seguito all'acquisizione attraverso strumenti di videosorveglianza questo sarebbe il nome corretto non il regolamento della videosorveglianza visto che il comune non ha alcun potere di disciplinare nulla della videosorveglianza figuriamoci se può fare un regolamento sulla videosorveglianza che non lo può fare in nessun caso in questo caso il regolamento è molto semplice premesso la valutazione d'impatto approvata con dell'imperazione di giunta numero del si stabilisce le modalità di accesso e si approvano i moduli per la richiesta di accesso ai dati e le finalità per i quali ci si può accedere così come previsto dalla leggenda normativa sulla protezione dei dati personali poche righe finito questo è tutto da quel momento siete perfettamente in regola tabellazione di tutte le aree sottoposte a controllo elettronico della velocità a ZTL a proposito se vedete a proposito www.eticasocietas.it trovate una serie di articoli che vanno semplicemente a commentare i provvedimenti del garante bene troverete che un comune è stato sanzionato perché il cittadino aveva ritenuto che sul sull'autovelox un cittadino sanzionato per l'autovelox che l'autovelox non avesse l'autovelox fisso non avesse l'informativa sul trattamento dei dati e non avesse l'avviso di zona la tabella di area video sorvegliata bene nonostante questo il garante ha accertato che invece c'era quindi era uno dei pochi comuni che non ha messo semplicemente il cartello velocità controllata elettronicamente ma prima e accanto a questo cartello ci ha messo anche area video sorvegliata correttamente la tabella informativa però ha risposto oltre 30 giorni al cittadino che gli chiedeva spiegazione su questo e in questo caso il garante non ha applicato la 241 ma invece ha applicato la stessa normativa sul GDPR che impone al titolare del trattamento dei dati di rispondere senza ritardo alle richieste di cui appunto ai diritti del cittadino articolo 15 ma direi anche articolo 13 sul trattamento in questo caso proprio pienamente articolo 13 perché nel momento in cui gli chiedeva perché era stato ripreso e non gli chiedeva se era omologato ai sensi del codice della strada ma gli richiedeva proprio che che utilizzo ne facessero di quelle immagini quindi gli faceva una richiesta sul proprio trattamento dei dati in questo caso 30 giorni sono considerati proprio il massimo assoluto perché il termine è senza rispetto senza ritardo non c'è entro 30 giorni ovvero dimostrando come dice al 241 il GDPR ci dice senza ritardo quindi non gli hanno proprio risposto gli hanno risposto dopo che il garante gli ha chiesto spiegazioni e gli hanno applicato comunque 4.000 euro di multa 4.000 euro di sanzione amministrativa pur avendo invece tutto questo figuratevi se prima di quel di quell'impianto non avevano area video sorvegliata informativa sul trattamento dei dati tempo in cui si detenevano queste immagini io spero che non ci siano comandi che hanno ancora le immagini di tutti i loro autovelox dopo che sono state pagate le sanzioni perché se ogni cittadino che l'ha avuta pensa a questo si farà ridare molto ma molto ma molto di più di quei pochi spicci che ha pagato per la violazione amministrativa domande? non c'è nessuna qua ce ne sarebbero veramente tantissime di cose da dire però no neanche sulla chat dei soci ah ecco anche sulla chat dei soci che avevo chiuso quindi apro adesso allora vediamo no non c'è nessuno ah ok 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 benissimo perfetto bene allora siamo a vostra disposizione voglio ricordarvi il vantaggio di essere soci Upli che sulla chat potete chiedere non solo a me o ad altri per quello che riguarda la privacy ma anche su tutti i vostri dubbi ed avere a disposizione la famiglia Upli che risponderà a tutte le vostre domande voglio ricordarvi anche il vantaggio di avere 43 attestati e siamo solo a metà dell'anno utilissimi più di qualsiasi altro partecipante a concorsi verticalizzazione avanzamenti di carriera quindi insomma veramente pagando una quota così misera avere tutto questo ed è un grandissimo vantaggio per Upli per i soci Upli e poi fondamentalmente il grande piacere che noi tutti lo facciamo con il cuore lo facciamo gratuitamente perché ci sentiamo parte di una famiglia non di una qualsiasi associazione grazie a tutti voi grazie a tutti vi salutiamo siamo contenti di essere stati in tanti anche questa sera vi ricordiamo anche dei prossimi webinar il 44esimo webinar che è la missione di soccorso e poi avremo il 45esimo che parleremo ancora di privacy e sicurezza dei dati personali però in questo caso parleremo sui social network quindi vi aspettiamo e mi raccomando divulgate le nostre informazioni gli iscritti sono sempre ben accetti e vi aspettiamo alle prossime i prossimi incontri grazie e se può essere il tuo 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 Grazie a tutti.